Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con questa nuova e prima review recensione dedicata alle armi di Osiride. L'arma di quest'oggi, la prima arma che andremo ad analizzare, sarà l'erudito, il fucile da ricognizione. Prima di iniziare mi sembra anche opportuno scusarmi per la mia voce estremamente nasale, spero non si noti tanto col microfono, spero vivamente che si capiscano bene le parole, purtroppo però sono un po' raffreddato, non so in quanto tempo mi passerà e non volevo farvi mancare dei video, quindi ai limiti dell'accettabile caricherò lo stesso questo video con questa bellissima voce da trambione. Detto questo, passiamo a parlare dell'erudito. Vi dico già da adesso che la versione che ho io di quest'arma avrà dei danni da vuoto perché sarà la versione affinata e ciò implica che lo droppate nella cassa speciale di Osiride che si trova su Mercurio grazie a un bellissimo 9 a 0 fatto nelle prove di Osiride di settimana scorsa perché vi ricordo le armi primarie con danni elementali di Osiride potranno essere droppate esclusivamente in questo modo. Giusto per cominciare, un commento generale sull'erudito, semplicemente una delle migliori armi che abbia mai avuto l'onore di utilizzare, senza ombra di dubbio al podio sul primo posto insieme al multistrumento mida. Quello vince per la versatilità, questa vince per la potenza. Analizzando le statistiche infatti risulta subito evidente che quest'arma vanterà un impatto molto molto alto, gitate stabilità sopra la media insieme a un tempo di ricarica che non è per niente male. In un c2 difetti di fatto saranno una cadenza piuttosto bassa dei caricatori miseri di soltanto 13 colpi e quando definisco questo un difetto è soltanto un eufemismo perché tra il tempo di ricarica abbastanza elevato e il primo perk che vi consentirà di ricaricare l'arma più velocemente eseguendo uccisioni precise, l'arma ci metterà veramente poco a ricaricarsi e questi caricatori poco capienti quasi non li sentirete nemmeno. Mentre per quanto riguarda invece tutte quelle statistiche che in precedenza vi ho detto che sono già ottime di base, giusto per lasciare un ulteriore commentino vi dico che nel pvp contro altri giocatori al petto farete 49 di danno e in headshot il colpo critico sarà 73. Ciò implica che ci metterete ben tre colpi per uccidere e questi tre colpi non devono essere nemmeno fatti tutti e tre alla testa, non devono essere nemmeno tutti e tre precisi perché vi ricordo che i vari nemici non avranno tutti la stessa vita, dipenderà molto dal quantitativo di armatura che avranno. Gli stregoni, i cacciatori che di solito sono quelli che ce l'hanno più bassa, spesso non hanno nemmeno 200 di vita quindi basterà semplicemente fare due colpi precisi e un colpo al petto. Al contrario il titano potrebbe arrivare a 220 se non erro a full armatura e che vuol dire che neanche tre headshot basteranno perché rimarrebbe con uno di vita. Onestamente però per esperienza non ho quasi mai trovato un titano full armatura quindi diciamo che in generale all'arma base senza nessun perk sbloccato ci metterete tre colpi a uccidere, tre in testa sul sicuro e ogni tanto potrebbe succedere due in testa e uno al petto. E con la gittata che ha quasi al massimo e come vedremo in futuro con i perk potrà essere portata proprio al top il danno scenderà anche poco in base alla distanza e vista la struttura della maggior parte delle mappe presenti per il pvp non c'è neanche spazio sufficiente per creare questa distanza per ridurre il danno. Quindi statistica alla mano quest'arma si presenta come una delle migliori e già qui capite che è un'ottima arma da conservare, da potenziare e da utilizzare. Per quanto riguarda invece quelli che sono i suoi perk, come tutte le armi avrà due perk principali e due sottopotenziamenti. Come primo perk c'è fuori legge, ve lo accennai in precedenza, vi consentirà di ricaricare l'arma più velocemente quando effettuerete uccisioni precise. Ottimo bonus su fucili da ricognizione di questo tipo con tempi di ricarica abbastanza buoni già di base ma soprattutto con caricatori poco capienti. Non sarà difficilissimo, ucciderà la testa quindi sfrutterete nel 90% delle vostre uccisioni questo bonus. Il secondo invece è ricarica reattiva, che vi consentirà di causare danni aggiuntivi quando ricaricherete l'arma subito dopo un'uccisione. Perk che ha una sinergia perfetta con fuori legge perché ucciderete, ricaricherete velocemente ammesso che abbiate appunto ucciso con un colpo critico e farete ancora più danni. E nel pvp questa combo di perk è devastante. Quando arriveranno due o tre nemici per volta, riuscendo ad ammazzare il primo automaticamente farete dei danni mostruosi anche al secondo e lo eliminerete. L'unica nota giusto è non mancate colpi perché la cadenza come ho detto non è altissima e diciamo che ogni colpo è importante. Per quanto riguarda invece le ottiche, quella che utilizzo io è il mirino laser o RS, quella base, perché semplicemente aumenterà la stabilità. Di fatto però scegliete quella con cui vi trovate meglio perché alterano le statistiche veramente poco e quindi io preferirei optare per una con cui riesco a mirare facilmente piuttosto che una che mi migliori le statistiche desiderate. Per quanto riguarda invece il secondo ramo di potenziamento, sono tutti e tre ottimi perk. Il primo è massiva che aumenterà gittata e precisione ed in poche parole porterà questo parametro al massimo. Perk abbastanza utile, il danno non si ridurrà mai. Vedete voi se preferite utilizzare questo o ad optare per il secondo che è Equilibrio Perfetto, che grazie al suo effetto ridurrà notevolmente il rinculo, aumenterà quasi al massimo la stabilità. Quindi tra questi due perk decidete voi se avere una gittata e una precisione assurda e quindi un danno che non scende mai piuttosto che un'arma molto stabile. La cadenza non è elevata quindi il rinculo non si fa sentire troppo, però se volete avere la mira fissa su un punto che non si schioda di lì optate per Equilibrio Perfetto, altrimenti per Passiva. Terzo ed ultimo perk invece sarebbe ottiche personalizzate che da descrizione mette un mirino con zoom migliore. È vero che in questo caso rinuncereste a una stabilità mostruosa piuttosto che a una precisione, a una gittata mostruosa, però sta a voi vedere qual è l'ottica con cui alla fine vi trovate meglio. Io lo evito perché mi trovo già bene con le altre, a voi dipende da voi, c'è poco da dire. Quindi ricapitolando, una delle migliori armi presenti nel gioco, c'è poco da dire. Un ottimo fucile da ricognizione è molto versatile sia per il PvE che per il PvP. La versione affinata ancora di più per il PvE perché comunque darà un danno elementale ad un fucile da ricognizione e di fucile da ricognizione con danno elementale ce ne sono pochi. Io ho avuto la fortuna di trovarlo di vuoto. Come ben saprete c'è la zanna di Eriut che fa danno d'arco, la visione di confluenza che fa danno solare e non c'era niente per il vuoto. Io ho avuto questa fortuna, onestamente la auguro anche a voi perché è ottima come arma. Quindi ragazzi anche questo video volge al termine. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero sia stato il vostro gradimento e vostra utilità. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto. Condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!